Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo il nostro approfondimento delle regioni italiane. Dopo aver affrontato il Molise e la Basilicata, continuiamo con le regioni meridionali. Oggi cominciamo ad affrontare la Puglia. La Puglia ha ovviamente un'importanza geografica, politica, economica e turistica sicuramente superiore alle regioni precedentemente studiate. La regione è una regione dalla forma particolare, che come vedete dalla mappa, confina a nord, nord-ovest con il Molise, a ovest con la Campania e la Basilicata ed è bagnata totalmente dal mare Adriatico, quindi è una striscia abbastanza sottile di terra ed è bagnata ovviamente nella zona sud, dal mare Ionio, quindi Mar Adriatico e Mar Ionio. È ovviamente la regione dell'Italia meridionale più lunga, quindi che ha più chilometri costieri ed è una regione altamente turistica. Il territorio ha un aspetto particolare. Ricordiamoci che la maggior parte del territorio è pianeggiante. Perché questo? Perché ovviamente dobbiamo sottolineare il tavoliere delle Puglie, che è una delle zone più estese di pianura nel territorio nazionale. Quindi abbiamo un 55% di pianure, un 45% di colline e praticamente una percentuale pari allo zero di montagne. Quindi come vedete abbiamo grandi pianure, il tavoliere delle Puglie, l'isola Salentina e qualche collina nella zona del Gargano e nell'entroterra. Assenza totale di montagne, tanto che la vetta più elevata della regione non supera i 1000-1100 metri. Quindi chiaramente sono cifre irrisore rispetto a quelle che possiamo trovare in altre regioni italiane. Il tavoliere delle Puglie occupa buona parte della regione ed è una pianura che era già utilizzata dai Romani per le coltivazioni e per i pascoli ed è fortemente importante per l'economia pugliese dell'agricoltura, sulla quale torneremo dopo. Poi abbiamo la pianura salentina, quella che troviamo qui, che è detta anche Piana Messapica, da Messapi che era la popolazione che abitava la Puglia prima, ovviamente l'unità nazionale, stiamo parlando di epoche preistoriche, e anche questa è molto importante per l'agricoltura. Per quanto riguarda l'idrografia, noi sappiamo che il territorio non è altamente ricco d'acqua. Infatti uno dei problemi principali delle regioni meridionali è proprio la scarsità d'acqua. Non ci sono dei laghi di grande importanza. I fiumi principali sono il Candelaro e il Cervaro e sono tendenzialmente fiumi di corte dimensioni che sfociano quasi tutte nel Mar Adriatico. Da un punto di vista di laghi possiamo praticamente non annoverare nessuno. Ricordiamoci però, in termini di territorio, la presenza delle isole Tremiti, che sono quest'arcipelago qui, sul quale dovete poi fare un approfondimento. Le isole Tremiti sono un arcipelago protetto in termini di biodiversità. Sono formate da numerose isole, da San Nicola, Capraia, San Domino, e poi la più distante, che è quella di Pianosa, la si vede qui nella mappa, e sono di fronte alla costa del Gargano. Le coste del territorio pugliese sono all'avanguardia in termini della balneazione, sulla quale torneremo dopo. Sono principalmente coste basse e sabbiose nella zona del Salento. diventano un po' più, un po' meno pianeggianti, quindi un po' più montuose, collinari, nella zona qui del Gargano, nella zona di Vieste. La Puglia, in termini di coste, ha ovviamente numerose destinazioni turistiche, sulle quali poi torniamo, ovviamente. Vediamo da un punto di vista, dopo aver visto il territorio e i fiumi, vediamo da un punto di vista politico come è organizzato, cioè quali sono i principali centri urbani della città, della regione, le province, eccetera. Vi dico subito che la Puglia è una regione a statuto ordinario, quindi non ha uno statuto speciale come altre regioni d'Italia. Ha una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, quindi abbastanza popolosa, ma comunque inferiore rispetto alle grandi regioni del nord, e ha una densità abbastanza bassa. Il capoluogo di regione ovviamente è Bari, che è situato qui a metà sul mare, infatti è un importante porto. Poi abbiamo Brindisi, poi abbiamo Foggia, abbiamo Lecce, abbiamo Taranto, e poi abbiamo una nuova provincia istituita pochi anni fa, infatti nella mappa non è ancora segnata, che è la provincia di Barletta, Trani e Andria. Questa provincia qui è una nuova provincia, che è stata istituita qualche anno fa per alleggerire il carico amministrativo della confinante provincia di Bari. Abbiamo già visto i confini del territorio, i monti, le colline e le pianure. Vediamo in termini di trasporti quali infrastrutture possiede la regione. Innanzitutto vediamo questa striscia verde, che è un'autostrada che noi abbiamo già imparato a conoscere, che è la Bologna-Taranto, cioè l'A14, cosiddetta adriatica, che attraversa tutta l'Italia nella parte est, e arriva, qui trova in Puglia, in Taranto, il punto di arrivo. Poi abbiamo numerose, ovviamente, strade statali, la regione non è molto infrastrutturata, come buona parte delle regioni meridionali, numerose strade statali, lo stesso vale per le ferrovie che non hanno una percorrenza ad altissima velocità, ma comunque i binari riescono a far viaggiare i treni freccia bianca, quindi che sono al secondo posto in termini di velocità tra quelli della rete nazionale. Abbiamo numerosi porti importanti, abbiamo il porto di Bari, abbiamo anche il porto di Brindisi, quindi qui nella zona salentina, il porto di Taranto, e direi ci fermiamo qui. Si tratta di porti, soprattutto quello di Bari, che ha dei collegamenti con i paesi dell'altra sponda dell'Adriatico, quindi Albania, Croazia, Montenegro e anche Grecia, quindi è il porto di ingresso in Italia da parte dei paesi che stanno nella penisola balcanica. Taranto, invece, è un porto molto importante per le merci e è un porto anche dove c'è una forte presenza militare, quindi un posto molto strategico. Da un punto di vista, invece, di aeroporti, in regione ne abbiamo abbastanza, per il numero di abitanti, abbiamo l'aeroporto di Bari, ovviamente, che è il principale scalo regionale, e poi abbiamo l'aeroporto di Brindisi, che serve tutta la zona del Salento. Quindi Lecce, nonostante sia una città importante, soprattutto per quello che ha da offrire in termini del barocco pugliese, non ha un aeroporto, ma è talmente vicina a Brindisi che utilizza l'aeroporto di Brindisi. Abbiamo ricordato la presenza delle isole Tremiti, parliamo dei parchi nazionali. I parchi nazionali più importanti, ce ne sono numerosi, ovviamente, in regione, i parchi più importanti sono il Parco Nazionale del Gargano, che trovate qui, il Parco Nazionale del Gargano, e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, delle Murge, che è un'altra zona pianeggiante e collinare molto importante, che saranno da approfondire. La Puglia, come vi dicevo, è una zona povera di acqua, quindi tutti i fiumi e i laghi che vi ho citato sono ovviamente a brevissima percorrenza. Da un punto di vista climatico, è chiaro che è una regione a carattere a clima mediterraneo, su questo siamo abbastanza d'accordo. L'inverno è mite, soprattutto dovuto alla presenza del mare, della sua azione mitigatrice. C'è una scarsa piovosità annuale, e l'estate invece è molto calda e secca, quindi non piove quasi mai. L'estate ovviamente sul mediterraneo sono estremamente calde, quindi un clima mediterraneo al 100%. Da un punto di vista economico, vediamo che caratteristiche ha la Puglia. La Puglia pecca ovviamente, un po' come buona parte delle regioni meridionali, in termini di efficienza, e in termini di prodotto interno lordo. quindi è tra le cinque regioni più povere d'Italia. Nonostante questo, la Puglia negli ultimi anni ha subito un vero e proprio boom di presenze, un boom di... tanto che si è parlato proprio del mito pugliese, della rinascita pugliese. Nonostante ciò, il settore ancora predominante non è quello industriale e non è ancora quello turistico, ma è soprattutto l'agricoltura. L'agricoltura per la Puglia svolge un ruolo fondamentale. Il clima, la pianura, contribuiscono insieme a rendere la Puglia è una delle zone più produttive in termini agricoli e questa cosa ovviamente porta a una produzione importante di cosa, soprattutto di olivi, quindi tutto ciò che si fa, olio e produzione annesse e connesse, di vite, quindi la produzione anche vitivinicola, di cereali, di frutta, portaggi, legumi, eccetera. Quindi la Puglia fornisce quasi il 30% della produzione nazionale di numerose cose, quali il vino, l'olio, molto banalmente. L'unico ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura pugliese è ovviamente la mancanza d'acqua. L'agricoltura è un'agricoltura a medio sviluppo, quindi non è ancora meccanizzata, ma che comunque è in fase di crescita. In termini invece di settore secondario, l'industria è soprattutto un'industria chimica, è meccanica e siderurgica, sottolineiamo ovviamente il caso dell'Ilva di Taranto, una delle principali acciaierie d'Europa, con tutto ciò che ne comporta, non soltanto la crisi politica che noi stiamo vedendo, ma anche l'impatto ambientale devastante che ha avuto sulla città. E poi ovviamente la questione del settore terziario. Il settore terziario non soltanto in termini di servizi, ma anche in termini turistici, è estremamente diffuso. Il settore terziario ovviamente lo affronteremo nell'ambito del turismo in Puglia, delimitando e dividendo il turismo in i soliti tipi di turismo che noi sappiamo decifrare e vedremo le principali destinazioni turistiche. Grazie.